Questo Natale siamo ancora più buoni! Prenota la tua nuova campagna pubblicitaria prima del 7 gennaio 2018. Riceverai uno sconto immediato del 20%. Per informazioni chiama il numero 333 426 9756. Nel mare ci sono i coccodrilli, uno spettacolo commovente che presto sarà sul palcoscenico del Teatro Arlecchino di Voghiera. Di che cosa si tratta? Dunque, è una rappresentazione teatrale di un artista molto bravo che è Cristian Di Domenico. Sarà un monologo sul, appunto, riguardante come tema la giornata mondiale del migrante. Siccome il 18 dicembre appunto si commemora questa data, si farà questa rappresentazione appunto al cinema Arlecchino di Voghiera. È una storia vera di un bimbo afgano, è corretto? Sì, è la storia vera di un bimbo afgano che viene messo in scena. È una rappresentazione molto toccante e quindi... Invitiamo ovviamente i cittadini a partecipare. Quanto è importante portare anche a teatro una tematica così attuale come questa? Beh, innanzitutto per non dimenticare che ci sono anche queste cose, cioè parlarne e spiegare cosa significa appunto essere migranti. Perché i migranti non sono solo quelli che noi vediamo per strada, ma dietro hanno delle storie veramente alcune volte drammatiche che vanno raccontate insomma, perché la gente magari non conosce, da un'occhiata superficiale, non conosce appunto il retroscena di queste storie. Ogni migrante ha una storia a sé, come dicevo prima, a volte molto drammatica. Poi spesso basterebbe fare due chiacchiere con uno di loro per scoprire la loro storia, no? Invece purtroppo questo non si fa. Certo, sì, basterebbe parlare con uno di loro per rendersi conto di quello che ha voluto significare la loro partenza dalla terra di origine per arrivare qua da noi. Giusto ieri ho parlato con uno di questi ragazzi che sono ospiti qui in una struttura di Voghera, ha raccontato la sua storia e il suo viaggio è durato quattro anni per partire dal Togo e arrivare fino a noi, passando quattro stati. E il suo viaggio è durato quattro anni perché non poteva permettersi finanziariamente di fare un viaggio tranquillo, come facciamo noi di solito in aereo, ma approfittando di passaggi, attraversando il deserto, imbarcandosi su un barcone di gommone, 120 persone su un barcone di gomma, a cercare di attraversare il Mediterraneo per arrivare qua. Troppo sono storie molto comuni tra loro. Nel mare ci sono i coccodrilli, sarà il Teatro Arlecchino in quale data? È la data canonica della giornata mondiale del migrante che è il 18 dicembre. In effetti lo spettacolo sarà strutturato in due momenti diversi. Al mattino sarà riservato alle scuole, quindi al Cinema Arlecchino per le scolaresche di Voghera, e mentre alla sera il regista, attore, si trasferirà invece al Teatro Arlecchino di Voghera per una rappresentazione aperta al pubblico vogherese. Quindi l'appuntamento con i ragazzi è al mattino all'Arlecchino, invece durante la sera, presso il Teatro Adolescere, i cittadini vogheresi potranno liberamente accedere al teatro per assistere a questo spettacolo. Alle 21 alla sera e alle 9 al mattino. Questa iniziativa è organizzata da Voghera insieme ad altre associazioni vogherese, quindi si fa molto rete su queste cose. Le altre associazioni rappresentate per organizzare questo evento sono le associazioni insieme di Voghera. Naturalmente Voghera è, poi ci sarà la partecipazione dell'Atletica Pavese e di Libera e di Lega Ambiente.